Gnocca di bambù Una gnocca di bambù con la testa a forma di ananas Ma tu sei quello dei video Ma ve lo dente Che bella giacca oggi Chi non vorrebbe sedersi a bere un tè bollente assieme a una bellissima gnocca o gnocco di bambù Per qualche ora in un hostess club? Ecco, oggi Sebastian ci parlerà appunto di quello Con un magico tour in uno dei migliori host club di Osaka Analizzando altresì qualche rivista del settore Ciao a tutti ragazzi Oggi siamo in un host club nel Club Eye C'è questa festa di Mark Jacobs Che siamo andati a vedere È stata divertente Posto un po' insolito per fare una festa Infatti l'hashtag era MJSomewhere Comunque è stato divertente Spero che il video vi possa piacere Magari in un futuro parlerò di host club Così vi dirò un po' la mia scusa Le penso di questa cosa Che è una cosa che c'è solo in Giappone Comunque vabbè Spero che il video vi piaccia Noi ci vediamo domani alle due Con un altro video Sempre su Giappone Ciao Stiamo andando al Club Eye Per questa festa di Mark Jacobs Oggi vediamo com'è Siamo nel centro di Kabukicho Dove sono tutti i locali a luci rosse Però l'hanno fatto qua Ma devo sapere che il Club Eye Comunque è un posto super usato Per film, music video E anche per photoshoot Quindi sarà divertente Andiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No, non lo scartiamo in diretta Così ne parliamo Ciao a tutti Sono Sebastiano Serapini E benvenuti su un nuovo video Di Sebastiano Serapini In Giappone Devo parlare un po' con la voce In silenzio Perché c'è Marco Togni Che insomma Io sono rispettoso Della cultura giapponese Ma che incentra pure io Guarda che qua siamo davanti A casa mia Quindi si può fare Questa è casa mia Veramente? Sì Bene Quindi volevo parlarvi oggi Di Oggi di cosa parliamo Marco Togni Che è venuto a trovarmi Questa mattina Alle 9 di mattina Si è svegliato alle 8 Per arrivare qui Che alle 8 Alle 6 e mezza Alle 6 e mezza Per arrivare qui Ma che carino Iscrivetevi al suo canale Oggi parliamo di Gnocca di bambù Gnocca di bambù Ah no Gnocca di bambù La gnocca di bambù Che tu sei anche sposato Con una gnocca di bambù Facciamo vedere l'anello Da lì Lui sei tolto Ah scusate Bene Lui si è sposato Con una gnocca di bambù E con come essere sposati Con una giapponese E essere sposati Con una giapponese È abbastanza bello Però tipo Se ritardi 5 minuti Arriva a casa un attimo Dopo inizia a sfoderare la katana E c'è proprio lì Mia moglie con la katana Così che vede il luccichi E fa Vabbè E quindi cosa fai Se tipo una volta Ti lascia fuori casa Che cosa fai In una serata così triste Che sei da solo Cosa potresti fare Vado dalle gnocche di bambù Praticamente In affitto In affitto La premo insieme Questa rivista Perché io sono andato L'altro giorno A Oslac A fare uno shooting Per una brand Che si chiama Bloody Mary Che non sta sponsorizzando Questo video Ma comunque mi ha pagato tanto Quindi ci sta Allora Si sta la sua impostore E allora praticamente Vi hanno deciso di E la seconda parte Dello shooting Me l'hanno fatto fare All'interno di questo Host Club Praticamente Allora con la scusa Abbiamo visto questo Giornale che era gratis E ho detto Vabbè chiamo Marco Togni Quando le cose sono gratis Ragazzi Approfittatene Sempre Puoi sfogliarlo Vuoi far vedere Le patiche più interessanti Allora vogliamo sfogliarle insieme Ma innanzitutto Cosa sono Come si dice Hostess di bambù a ore Hostess di bambù a ore Si dice Gnocca di bambù a ore Ah si scusate Come si dice Gnocca di bambù a ore Si dice Hostess In giappone Vedete qua ci sono tutti i locali Dove Deve andare a prendere le hostess Che costicchiano un po' Però devo dire che Io non ci sono mai stato Non ci sono mai stato per davvero No 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 Ah madonna ma proprio Sono spinte le foto qui No 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 Ma si ma ti mangi Se vado io in questi posti qua Divento rosso come una ragosta Si avvicinano a queste La cosa bella comunque In Giappone Immaginate mi si avvicinano a queste E mi dicono Ah ciao Marco Io No comunque non fidatevi mai Della gnocca di bambù a ore Perché è un'assassina Vi mangerà tutti i soldi Veramente Lei è pagata per intrattenere E cercherà in tutti i modi Di non darvela Perché comunque Sono le fighe di legno Alla fine giapponesi Delle gnocche di bambù E niente Ma proprio quelle di 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 E poi comunque sapete Un po' come funziona anche con gli host Che sono i ragazzi Anche per le ragazze Se non se la danno Comunque i maschi E vabbè Un po' si stufano Mi piace di più Però comunque sapete Se proverete di più E cercherete di farle regali Eccetera Quindi tra l'altro poi Ogni settimana c'è un opening Di un nuovo locale Però te che bello Però sono belle Cioè Sì però sono anche molto photoshoppate Ah sai che potremmo fare Sembra una mia amica Ti giuro Magari è lei No 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 era Sì sai se troviamo la moglie Di Marco Togni qui No non credo No magari c'è Davvero Perché lei Vediamo Allora Ti giuro Sembra una mia amica Ma la mia amica è più bella Ma scusa Ma tu che amiche hai E dove le frequenti E soprattutto presentacele Allora devo dire Che questo Cioè è praticamente Sempre la stessa No ma Però vi immaginate Se io veramente Vado in sti posti Che capelli ha Che imbarazzo Questa Questa è praticamente Ecco adesso vi presento Siccome vogliamo parlare anche Questa è praticamente L'ananas più costosa al mondo Perché costerà tipo 100 euro a notte Questa non è bella Questa infatti costa meno Piacerebbe se ci fossero scritti i prezzi Però Però vedete Un'ora 7000 yen Che sarebbero 60 euro Sì però non è che fate Cioè No infatti Non c'è la production Cioè voi praticamente Ti siederete in questi locali Ti siedi qua Ti siedi qua no E loro vengono lì Ti versano da bene Cioè alla fine fanno Poco più delle cameriere in Italia Però le pagate 100.000 volte di più Perché la cameriera in Italia Deve farla carina e tutto Magari nei bar la sera Non sai nei pub Sì La cameriera comunque Viene lì Ciao Un attimino E in Italia non la pagate Cioè pagate il succo a 2 euro Qui invece per bervi un succo Pagate 70 euro E tra l'altro poi La potete portare anche a fare un date fuori Se l'avete pagata abbastanza Nel locale Paranche E potete portarla a cena Pagando lo stesso La plata proprio Andate a mangiare pizza Andate a mangiare un sacco di belle cose Ma ci sono delle foto un po' più Eh in effetti no Non ho visto ancora Delle foto interessanti Ah vabbè Qua dove farsi i capelli Per diventare Una gnocca di bambù Con la testa a forma di ananas Che costa comunque 20 euro solo Perché questo qua è Osaka Quindi costa meno Costa tutto meno Osaka Rispetto a Tokyo Un filo si Guarda qua Questi jeans Jeans fighetti Che consiglieremo a Marco Togni Non so se c'è qualcosa Che bella giacca oggi Che bella giacca L'ho comprata ieri Allora Marco Togni Cosa pensi di Yurina Yurina Yurine Yurine Dov'è Yurine? Yurine Yurine Bellissima è Yurine Questa ragazza qui Ma abbastanza carina Dita che Take out Ah take out Delivery health in Tokyo Questa take out Questa per me Ovviamente te la potete portare a casa Lei è della classe E Ah perché poi c'è tutte le varie classi Chi vorrebbe pagare Per sedersi a mangiare con lui Cioè io non voglio dire Presente Con lui Fai vedere Oh madonna che è Cioè veramente O con lui Cioè Fammi vedere Allora non so se queste Mi sa che queste sono donne Perché sono trasformate di sesso No non sono trasformate Sono solo truccate Non sono trasformate No no però mi sa che sono maschi Non hanno gli armi Sono maschi Perché ci sono anche gli u Allora in Giappone c'è la figura Del otokonoko Che non sono i trans Cioè non c'entrano Che cazzo con i trans Proprio un cazzo Guardate che belli No la stella storia degli otokonoko Non hai mai visto i documentali No Faticamente ci sono questi Ma non sono trans Sono uomini C'entrano tipo le drag queen Però ancora diversi Che si sono Si travestono da uomini Ah si sono Da donne Da donne Uomini che si travestono da donne Ma sono Eh sono drag queen Si però un po' diverso Cioè Le fanno più La drag queen fa più spettacolo Così Loro fanno proprio E io avevo un'amica Che faceva la hostess E ogni volta che tornava Da un viaggio Sì perché di solito Quando vai Quando vai a fare i viaggi Di solito torni Che sei messo un po' male No magari anche speso soldi Quindi sei un po' Cioè non lo so Però se fai un viaggio Tipo di dieci giorni A Palau Torni E la vedi che torna con tutti questi gioielli Con tutti questi vestiti nuovi Facendo E lì c'ha un sospettra Non diamo questi messaggi sbagliati Però io non critico Se uno vuole fare questo lavoro Che lo faccia Secondo me il lavoro Secondo me è importante che lo faccia Libertà Sì appunto se lo fai consapevole Sei contenta che la dai via Però guadagno sopra Fallo Comunque questa non la danno via La maggior parte di loro Te la promettono e basta No è vero eh Ti apprometto e poi ci tengo Se prometto poi mantengo mai Per te Ma veramente Perché a volte la gente Nei tour No ti spiego Nei tour Vengono tutti a chiedermi Veramente No mi dicono Ah ma qui in Giappone No queste qua non fanno le cose Capito Allora ci sono anche i locali Dove ci sono le prostitute O quelle con le mani da fata Che mi ha portato Marco Togna Prima volta ci siamo proprio conosciuti Ma tu sei Marco Togna Ma sei Marco Ma tu sei quello dei video Ma veramente Io Io Compaio In un suo video Che bei momenti Vabbè comunque ci siamo divertiti Lui compare in un mio video In un suo video dove mangio Io sono Era appena uscito di palestra Quando vivevo in questa zona E mangio praticamente pollo In un suo video Ma quello era Marco Togna Allora sono andato a conoscerlo Ma tu sei Marco Togna E ho visto lui e ho detto Ma che cazzo è E poi dopo da lì mi ha conosciuto E si è scaricato tutta la mia musica Adesso c'è sempre l'ipote No è vero C'ho l'iTunes Al prossimo video Dal Giappone Ci vediamo domani con un altro video Alle due di pomeriggio Ciao Ciao